Ti sei mai chiesto che differenze ci sono tra un narcisista uomo e un narcisista donna? Se ci sono proprio delle peculiarità? Allora, in questo video cercheremo proprio di esplorare quali sono le caratteristiche principali per cui una persona può riconoscere di avere a che fare con una donna narcisista. Faccio subito una premessa, non parliamo di una persona che ha delle tendenze narcisistiche. Se ci tiene al proprio aspetto, se è un po' appariscente, se comunque ha un modo di fare che può attirare l'attenzione. Non stiamo parlando di una persona con dei tratti un po' narcisistici. Stiamo parlando in questo video di una persona che ha un disturbo di personalità narcisistico che è quel disturbo che viene elencato nel DSM V, che è questo manuale statistico e diagnostico per i disturbi mentali che è un po' la bibbia di tutti coloro che si muovono all'interno della salute mentale e sappiamo, come ben descritto in un video molto approfondito, su quali sono i nove tratti che delinea lascio il link in descrizione, proprio questo manuale per poter fare una diagnosi se la persona ha un disturbo di personalità. Devono essere presenti almeno cinque di questi tratti, alcuni sono più importanti, altri un po' meno ma l'importante è anche un'altra cosa, che chi può fare una diagnosi in realtà è solamente un operatore qualificato, uno psicologo, uno psichiatra, uno psicoterapeuta che abbia la preparazione scientifica, gli studi per poterlo fare e anche un'esperienza clinica tale da permettergli di poter veramente individuare le caratteristiche che denotano un disturbo di personalità da alcune tendenze. Ma quindi se hai a che fare veramente con una persona che ha questo disturbo di personalità ti sarai reso conto, o ti sarai resa conto, che è molto influente nella tua vita, cioè che cambia la qualità della tua vita. E a volte ti rendi conto che c'è anche una tipologia, che è quella chiamata covert, che è più frequente nelle donne e che è anche più difficile da individuare, perché è meno gradassa, è meno appariscente, è meno esageratamente sempre al centro dell'attenzione. Però ha delle caratteristiche che se riesci a conoscerle e quindi a riconoscerle, ti potrebbero aiutare a gestirla, perché anche se non è overt, c'è quindi la donna grandiosa, ma è covert, potrebbe veramente crearti un po' di difficoltà nella tua vita quotidiana e soprattutto se hai una relazione con lei. A volte tra psicologi si dice che il narcisista e la narcisista covert sono anche, che vuol dire anche nascosto, quindi coperto, sono anche due tipologie che sono anche più difficili da identificare, anche per gli stessi clinici. Ma proviamo ad approfondire appunto questo tipo di personalità. Sia l'overt che il covert o la covert soddisfano alcuni criteri che sono quelli che dicevamo del DSM quinto. Quindi le cose principali, le caratteristiche più importanti, le condividono. Tra le caratteristiche più importanti che manifestano le persone con questo disturbo di personalità, sicuramente ci sono la mancanza di rimorso rispetto a quello che fanno e quindi non volersi mai assumere delle responsabilità, anche di fronte a situazioni che hanno magari creato dei problemi. La seconda è la mancanza di empatia, che ripetiamo, è quell'aspetto per cui una persona riesce ad entrare in contatto con l'altra, sentendone anche un po' le emozioni, quindi soffrendo della sua sofferenza e rallegrandosi della sua gioia. Questi aspetti esistono un po' mascherati nel narcisista, cioè riesce ad intuire le emozioni degli altri ma non le prova e quindi non ha questa capacità di entrare in contatto in profondità. E poi un altro aspetto che li caratterizza tantissimo è questo senso di superiorità rispetto agli altri, di essere speciali, di avere più diritto degli altri di ottenere le cose. Anche questi aspetti sono molto forti, sono presenti in entrambi i sottotipi, sia covert che overt. E allora qual è una prima differenza tra covert e overt? La prima differenza non sta nel modo di pensare, di ragionare, di sentirsi rispetto agli altri, ma sta nel modo di manifestarlo, cioè nell'immagine che loro forniscono alle altre persone. Quello che appare, il modo in cui pensano, in realtà è molto simile a questo senso di grandiosità, di essere speciali, la mancanza di empatia, però non lo manifestano nello stesso modo. E allora si può scambiare una persona con un disturbo covert per una persona introversa, timida, sensibile, e una persona invece con un disturbo overt, una persona che ha questo senso di grandiosità, manifesto, estroversa e assolutamente egocentrati. E vogliono anche essere sempre al centro dell'attenzione. Ma ricordiamoci che in realtà il pensiero che hanno sotto è molto simile, perché in realtà in entrambi i sottotipi si sentono speciali, unici, con più diritti, senza responsabilità rispetto a quello che capita, non sentono empatia. È solo il modo di presentarsi che è differente. E se allora dobbiamo parlare di donne narcisiste, bisogna anche dire che la maggior parte delle donne narcisiste si manifestano come narcisiste covert, cioè hanno tutta una serie di atteggiamenti che possono indurre le persone a sbagliare la valutazione, vengono tratte in inganno, perché appaiono in un modo, ma in realtà sotto sotto sono tutt'altro. Allora, quali sono le caratteristiche, ad esempio, di una donna narcisista, soprattutto se covert? Perché alla prima impressione potresti rimanere colpito o colpita dal fatto che appare una persona molto mite, gentile, un po' insicura. E quindi, una volta che hai avuto questo tipo di approccio inizialmente, inizi a pensare, ma che brava persona che ho di fronte, cioè guarda quanta sensibilità, come è educata, come si pone bene rispetto alle situazioni. È proprio piacevole da frequentare. Ma se all'interno di questa piacevolezza appaiono questi tratti che ora ti elenco, potresti iniziare a dubitare di avere a che fare non con una persona, come l'hai valutata inizialmente, ma con una persona che invece potrebbe avere un disturbo di personalità covert. Uno dei primi aspetti sicuramente è quello di apparire molto critiche verso se stesse. Iniziano a mettere in risalto i loro difetti, potrebbero farti dei commenti riguardanti il loro aspetto, dicendoti magari che non si sentono proprio a loro agio, perché comunque ci sono degli aspetti di loro che non gli piacciono, oppure che non si sanno vestire bene, proprio eleganti come ti vesti tu. E quindi, in questo modo, provocano in te un'ondata di rassicurazioni, di complimenti. Ma no, ma cosa dici? Sei bellissima. Ma guarda, puoi che fascino? Guarda come ti vesti bene, a me piace. E si sentono rassicurati dalla persona che hanno di fronte, ma in realtà loro questo non lo pensano. Anzi, stanno molto, ma molto attenti al loro aspetto, a come si vestono, a come si vestono tutti gli altri. E per loro è fondamentale fare una buona impressione. Ma cercano di entrare in contatto con te, ponendosi in questo modo un po' subdolo, di essere insicure e alla ricerca di rassicurazioni. Un secondo aspetto è che sono gentili, sono spesso complimentose, ma a volte sono dei complimenti che non sono proprio, come potrei dire, lisci. Cioè, hanno dietro un qualcosa che ti fa rimanere un po' pensieroso o pensierosa. Ad esempio, potrebbero dirti, wow, wow, guarda che bella luce che hai negli occhi, sei proprio tenuta bene. Guarda, ieri ti ho incontrato e ho fatto dei brutti pensieri perché ho detto, guarda com'è trasandata, invece oggi proprio mi sembri proprio bella. E così facendo, in realtà, quello che si instilla dentro di te come pensiero è, caspita, ma allora ieri come ero messa? Cioè, avrei dovuto stare più attento o più attenta? Per quale motivo non mi sono accorto o accorta che ero così trasandato o così di brutto aspetto? E allora questo va lentamente, ogni volta, a minare un po' della tua autostima e della tua rilassatezza nel rapportarti con lei. Un terzo aspetto è che ti accorgerai nel tempo, non subito subito, ma nel breve tempo, che hanno una tendenza ad essere invidiose delle altre persone molto accentuata. E allora, nel momento in cui parlate di un'amica o di un amico o di una persona che ha raggiunto qualche successo nella propria vita personale, ha trovato un fidanzato nuovo o, che ne so io, ha avuto una promozione o i figli hanno fatto qualcosa di buono, uscirà fuori quella parte un po' velenosa che inizierà a mettere in discussione la verità o comunque la base del successo che ha avuto l'altra persona, facendola apparire come non meritevole o comunque mettendosi anche in paragone, dicendo, beh, però, cavoli, anch'io avessi la sua fortuna, avessi anch'io un marito così, avessi anch'io degli amici, avessi avuto delle opportunità se la mia famiglia fosse stata, inizierà a dare tutta una serie di spiegazioni che potrebbero metterti a disagio proprio perché intuisci che non riesce ad accettare il bello degli altri e la fortuna degli altri, la mette sempre in discussione e soprattutto, un caposaldo, è quella di paragonarsi continuamente all'aspetto fisico delle altre persone, soprattutto alle amiche o alle conoscenti e quindi ti obbligherà probabilmente ogni volta a fare un apprezzamento o una critica rispetto all'essersi paragonata all'amica X che secondo lei ha un po' più di ciccia, un po' meno di ciccia, è più alta, è più bassa, è più larga, è più magra, o vi sta meglio o peggio, però cercherà sempre da te delle conferme mettendosi in paragone e mettendo in cattiva luce l'altra persona. Quarta caratteristica importante è stai attento o attenta al fatto che sono molto differenti rispetto a quello che vivono nel privato e a quello che vivono pubblicamente. Quindi quando sono altre persone con cui hanno anche magari un po' meno confidenza che con te, appariranno come delle persone molto sagge, molto posate. Quella persona che vivi conosciuto all'inizio, che non ama fare pettegolezzi, che non le piace di essere giudicate, giudicare, che ognuno ha il diritto di essere come vuole, anzi guarda, uh ma come sei vestita bene oggi, fanno complimenti, adulazioni, sono sempre persone amabili. Nel momento in cui però rimani a tu per tu iniziano a farti un elenco di critiche su tutti e su tutto che è lunghissimo ed è spietato. E quindi quando ti dicono no io non amo fare pettegolezzi davanti a tutti, quando poi sei tu nel privato con questa persona ti rendi conto che invece fa pettegolezzi proprio su tutti e probabilmente li fa anche su di te quando non sei presente. Questo aspetto però ha una punta di insidia, potremmo dire, cioè il fatto che questo suo apparire così perfetta e meravigliosa di fronte agli altri poi ti rende difficile il confrontarti con altre persone o cercare di capire cosa sta succedendo nella tua amicizia, nella tua relazione. perché le altre persone vedono l'aspetto pubblico, quello che lei vuole dare come immagine, è quello che tu vivi nel privato, cioè tutto la sua essere invidiosa, critica, nei confronti degli altri, potremmo dire tra virgolette a volte con delle punte di cattiveria nei confronti degli altri e anche vendicativa, questi aspetti sembra che te li sia inventati e allora un pochino ti inibiscono nell'esprimerti con gli altri. Quinto aspetto è che potresti essere convinto o convinta che in realtà siano molto, come dire, dipendenti dagli altri perché hanno l'abitudine a farsi aiutare o a far fare agli altri tante cose che loro stesse non vogliono fare. E siccome probabilmente ti ha scelto perché tu hai invece una capacità di essere empatico, empatica, generoso, altruista, leale, il fatto che tu abbia queste caratteristiche mette molto in difficoltà il tuo rapporto con lei perché lei lo sfrutterà questo e quindi apparendoti insicura, bisognosa, probabilmente ti farà fare un sacco di cose per lei e nel tempo inizierai a renderti conto che più cose fai per lei, più gliene dovresti fare e anche che non sono mai abbastanza perché comunque una punta di critica o farti sentire in colpa che in realtà potresti fare di più lo avranno sempre. Quindi è un vaso che non si riempirà mai. Sesta caratteristica, utilizzano tantissimo la comunicazione passivo-aggressiva. Non ti diranno mai apertamente delle cose che potrebbero dare fastidio alla loro intenzione di utilizzarti ma ti faranno intendere quelle cose e tu ti sentirai sempre in dovere nei loro confronti e avranno delle critiche a volte ti ostacoleranno nel momento in cui dovete uscire faranno dei ritardi pazzeschi avete deciso di fare una cena importante la saboteranno useranno frasi ambigue rispetto a quello che voi proponete a quello che voi dite in modo tale da lasciarvi sempre la difficoltà di interpretare realmente quello che pensano perché loro in fondo hanno sempre chiaro l'obiettivo che è ottenere ciò che in quel momento desiderano di cui hanno bisogno e per farlo anche la comunicazione di questo genere può creare un potere che loro utilizzano per manipolare le persone che hanno accanto. Settima caratteristica sappiamo per tutti i video che probabilmente avete ascoltato per tutte le volte che avete sentito questa cosa che i narcisisti cioè persone con disturbo narcisistico di personalità non provano empatia o fanno molta fatica a provarla quindi anche la narcisista covert dimostrerà un'attenzione una sensibilità una comprensione rispetto all'emozione degli altri che probabilmente è falsa perché sanno che facendo quella cosa ottengono qualcos'altro ma realmente non soffrono per quella cosa non si medesimano con la protagonista di un film romantico e quindi piangono perché o sta male o perché è felice semplicemente a volte lo mimano in modo tale da sembrare normali ma non provano realmente quelle emozioni in profondità perché purtroppo per il loro disturbo ne sono prive queste persone è la loro gabbia è la loro schiavitù il non potere entrare in contatto profondamente con gli altri e condividere qualcosa nella propria intimità allora arrivati a questo punto chiediamoci ma come potremmo gestire una donna con queste caratteristiche da narcisista covert come possiamo affrontarla sappiate che comunque sarà un lavoro difficile perché purtroppo questa loro essere in questo modo non è facilmente modificabile anzi più è grave il disturbo narcisistico è più è difficile che questo si modifichi nel tempo e quindi può andare a consumare delle energie da parte della persona che hanno di fronte può alledere l'autostima di quella persona avere a che fare con loro e allora partiamo con alcuni punti da avere chiari per poter gestire e affrontare una persona con questo disturbo il primo lo rispetto sempre è conoscere cioè informarsi capire come funzionano questi disturbi di personalità perché sono rigidi schematici ripetitivi non hanno grande capacità di evolversi o di modificarsi quindi lo schema sarà sempre lo stesso e se noi impariamo a conoscere quali sono questi tratti e quindi a riconoscerli riusciremo ad avere più potere per intervenire e quindi rendere meno efficace la manipolazione della narcisista covert secondo impostare dei confini darsi dei limiti dire io posso arrivare fino a qui non più di questo tu puoi arrivare fino a qui e non più di questo perché so che tu vuoi sempre qualcosa in più da me perché hai bisogno sempre che io possa darti un rifornimento narcisistico che io possa aiutarti a raggiungere i tuoi desideri e i tuoi bisogni ma questo purtroppo non basterà mai e quindi io devo difendermi dicendomi fino a che punto posso arrivare oltre il quale non posso andare terzo devi avere anche molta attenzione per quello che provi in queste relazioni ti fanno stare bene ti senti una persona realizzata senti di essere a tuo agio nella relazione di avere comunque di interesse ovviamente ma ti senti sempre messo in discussione sempre messa in discussione ti senti sempre come se ogni volta potrebbe succedere un disastro che devi sempre stare attento a quello che dici analizza questi aspetti che vivi nella relazione con questa persona perché possono essere veramente un campanello d'allarme che hai a che fare con una persona che ha un disturbo anche di personalità o comunque che cerca di manipolarti che cerca sempre di andare oltre a quello che tu vorresti terzo cerca di evitare di reagire costantemente in maniera emotiva avere reazioni emotive nei suoi confronti perché come diciamo spesso in tanti video i narcisisti cioè persone con questo disturbo di personalità cercano di avere delle reazioni da parte dell'altra persona perché anche la rabbia che provocano è un segnale di potere per loro cioè di essere in grado comunque di produrre cambiamenti nello stato d'animo dell'altra persona e questo è un potere fortissimo loro lo sanno e sanno di poter manipolare di più quindi meglio non reagire c'è un video molto dettagliato sul sasso grigio che è un metodo che aiuta a prendere le distanze a trattenersi a diventare quasi invisibili impercettibili e radar dei narcisisti e questo è molto importante approfondiscilo lascio il link del libro e del video qua sotto in descrizione quarto confrontati con altre persone cerca di capire con persone che stimi anche professionisti eventualmente se la cosa è molto difficile da affrontare o se non hai persone con le quali confrontarti uno psicologo uno psicoterapeuta qualcuno o degli amici che stimi persone vicine parenti che ti vogliono bene che comunque sono abbastanza equilibrati che quindi possono darti dei punti di vista che possono essere utili per te e confrontati per capire se quello che stai vivendo in questo rapporto è una tua fantasia o è un tuo disagio oppure se qualcosa che dipende dagli altri cioè dall'altra persona dai problemi che ha quella persona lì certo se tu su 100 persone che frequenti ti senti sempre nello stesso modo probabilmente devi iniziare a fare un serio pensiero sul te sulla tua persona su come tu ti rapporti con gli altri ma se con tante persone tu funzioni ti senti a tuo agio ti senti nel posto giusto ma invece da quando conosci questa persona da quando frequenti questa persona le tue sicurezze si minano la tua autostima è sempre peggiore ti senti sempre più insicuro o insicura forse questo non è una responsabilità tua ma è una responsabilità dell'altra persona anche in questo caso lo puoi analizzare e confrontare con dei professionisti però sappi che potrebbe dipendere dall'altro quindi non è una tua responsabilità se quella persona ha delle difficoltà e cerca di scaricare i problemi sugli altri soprattutto su di te e in ultimo come ben sapete anche in questo caso bisogna utilizzare il metodo di allontanarsi se è possibile se si può bisogna cercare di dare dei limiti che sono addirittura il no contact cioè cercare di non vedere non sentire non scrivere non ricevere messaggi non sentirsi telefonicamente non commentare i social non lasciarsi commentare sui social bloccarli in modo tale da potersi allontanare e non essere più sotto l'influenza di una persona che ci fa stare così male devi avere chiaro che il tuo benessere conta che è importante per te sentirti bene ed avere delle relazioni con persone che siano effettivamente degne o comunque che ti trattino in maniera che ti possano far star bene certo non devi cercare solo delle persone che ti danno sempre ragione o che fanno tutto per te però che ci sia una reciprocità e che non ti senti sempre o in colpa o in difetto o sempre sulle uova e che ogni cosa che fai potrebbe essere qualcosa che rovina la relazione se sei arrivato fino a questo punto e ti piace il modo in cui io affronto questi argomenti come gestisco il canale se non ti sei ancora iscritto ti chiederei di iscriverti proprio al canale stesso e se vuoi dare un sostegno concreto a questo mio lavoro puoi farlo abbonandoti al canale lascio il link qua in descrizione mi potresti offrire un caffè virtuale al mese con il quale riconoscermi nel mio impegno nel divulgare questi temi che c'è che c'è che c'è